Rifiuto non conforme non è un pesce d'aprile, il metodo che da oggi in poi la Sarim, la società che gestisce la raccolta urbana dei rifiuti nella città di Agropoli, applicherà tramite un adesivo posizionato direttamente sulla busta contenente il rifiuto sbagliato a coloro che non si atterranno alle nuove regole di raccolta differenziata per utenze domestiche e non domestiche. Questa mattina infatti tanti sacchi della spazzatura che sono stati lasciati in diverse strade periferiche del centro cittadino. Le regole della nuova società saranno molto più rigide rispetto al passato, infatti dopo un breve periodo di tolleranza partiranno i controlli ad opera dei vigili urbani e le sanzioni del caso per coloro che dovessero reiterare in errati conferimenti l'obiettivo dell'amministrazione comunale è superare l'attuale percentuale di raccolta differenziata, 55% circa, per raggiungere quella prevista per legge del 65%, un'azione che può fare bene all'ambiente ma anche alle tasche dei cittadini fanno sapere da Palazzo di Città. Una raccolta differenziata maggiormente virtuosa si tradurrà infatti nel tempo in un abbassamento dei costi di smaltimento per l'ente che si rifletterà di conseguenza sulle bollette più leggere per i cittadini contribuenti. Ricordiamo che il nuovo calendario utenze domestiche prevede di conferire l'organico, il martedì, il venerdì e la domenica, il multimateriale, il lunedì e il giovedì, la carta e il cartone, il martedì e il venerdì, il vetro e il lunedì, il secco e il residuo, il mercoledì.